Bruno Cialdini, Giovanni Giraldi, Leonetto Lippini, Quinto Martini, Umberto Ridolfi, Lorenzo Risaliti, Rolando Pagli, Aldo Toccafondi, Domenico e Benito Ventura, Elio Danesi, Dino Pizzicori, Guido Benincasa, Stajkovic, partigiano sovietico, Guido Giunti, Fiorenzo Mugnaio, Ciampi, Gustavo Delfini, Marcello Panconi, Manfredo Pasquinelli, Fernando Rapezzi, Fiorello Bini, Mario Tronci, Alessandro Vannoni, Attilio Spano, Bruno Zucca, Nikolaev, partigiano sovietico, Mauro Marradi e un ignoto partigiano sovietico. In loro memoria la deposizione della corona dall'oro da parte del prefetto Lucia Volpe, del sindaco Matteo Biffoni e della presidente di Ampi, Angela Riviello. di Ampi, Angela Riviello. percorso di Ampi, Angela Riviello. percorso di Ampi, Angela Riviello. rilassi, gioigi-di Tagore,ilia vimpio il Grazie a tutti. Assieme al prefetto Ciavolpi, al presidente dell'Ampi provinciale Angela Riviello, al monumento dedicato ai 29 martiri dove è stata deposta la corona di allora e adesso l'esecuzione dell'inno d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.